Io vi aggiorno molto rapidamente sulla situazione di Grotta a Mare, che è una situazione molto positiva, come d'altra parte il trend regionale e nella fattispecie il trend della provincia di Ascoli Piceno. Da molti giorni si sono ridotti fortemente i casi di isolamento domiciliare obbligatorio e soprattutto i cittadini che erano risultati positivi al Covid, molti dei cittadini, stanno avendo i risultati negativi al tampone, quindi formalmente risultano guariti. Una notizia straordinaria è stata per esempio di qualche giorno fa, quando abbiamo saputo che due nostri concittadini, quelli che più degli altri hanno dovuto affrontare una sfida dura con il virus, hanno migliorato sensibilmente le loro condizioni di salute e uno di loro per giunta è tornato anche a casa dall'ospedale. Quindi possiamo dire che la situazione è attualmente assolutamente positiva, confortante e non è una situazione di crisi. Grotta a Mare si è organizzata in questo periodo come tante altre città d'Italia, cioè su due direttrici, da una parte controllare il territorio e gestire la crisi, dall'altra quello di non interrompere tutte le attività quasi per mantenere l'organismo in salute e poter essere pronti a ripartire quando bisognerà ripartire. Dalla prima parte, cioè quella del controllo del territorio, moltissimo abbiamo fatto grazie all'impegno della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine, dei Carabinieri che stanno sul territorio e abbiamo anche dovuto affrontare la crisi attraverso dei progetti per essere più vicini ai cittadini come per esempio la distribuzione gratuita delle mascherine che stiamo portando avanti da circa un mese, abbiamo distribuito mascherine lavabili e riutilizzabili alla popolazione con un grande investimento di risorse, abbiamo cominciato dagli over 40, poi progressivamente abbiamo cominciato con gli over 50, poi progressivamente abbiamo aperto agli over 40, adesso la distribuiremo a tutti i maggiorenni, cioè a tutti coloro che hanno più di 18 anni e poi in questi giorni siamo stati impegnati nella distribuzione dei buoni spesa, come ripeto tutto il territorio nazionale grazie a questo contributo del governo ci siamo resi conto durante questa distribuzione che la crisi economica è profonda, molte famiglie che fino ad ora non avevano mai avuto bisogno dei servizi sociali invece adesso si sono affacciati al comune, segno di una profonda crisi sociale e economica che dovrà essere gestita nei prossimi mesi, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Dall'altra parte come vi dicevo abbiamo anche cercato di mantenere attive alcune iniziative affinché non fosse completamente interrotta la vita sociale e culturale della città, abbiamo creato nella nostra pagina facebook un ambiente virtuale nel quale abbiamo proposto iniziative culturali con un progetto intitolato la cultura non si ferma al quale hanno partecipato tutti gli esponenti della cultura locale e anche qualche amico della grande cultura nazionale come Enzo Iacchetti ad esempio e in questi ultimi giorni metteremo online anche due altre rubriche una dedicata alle nostre ludoteche che proporranno attività in remoto ai genitori e a tutte le famiglie, ai figli, a tutte le famiglie di Grotta Mare per poter sviluppare la creatività e anche l'abitudine alla lettura in queste fasi e poi una seconda rubrica dedicata allo sport alla salute dove proporremo dei video per chi vuole in questa fase ovviamente di isolamento continuare ad allenarsi. Dovremmo prepararci come tutti ad affrontare questa seconda fase cioè una fase in cui bisognerà convivere con il virus ma dovremmo essere molti attenti dobbiamo avere la consapevolezza che sarà una lunga convalescenza come un organismo che ha superato una malattia deve mano a mano progressivamente con cautela ricominciare a muoversi a vivere ed evitare una ricaduta quindi comunque essere protetto così anche la nostra vita civile dovrà essere sicuramente più attiva rispetto a quella attuale ma con la consapevolezza che bisognerà proteggersi ancora per lungo tempo dovremo mantenere molto alta la guardia.